E continuiamo con queste puntate di Conoscerete la Verità e parleremo adesso della seconda lezione. Abbiamo visto già due lezioni che in realtà è la prima e seconda parte della prima lezione. E questa è la seconda lezione, anche se non avete capito niente, la cosa importante è che capiate la parola di Dio. Vedremo il discernimento e la sua volontà. Quanto è importante il discernimento e la sua volontà nella conoscenza delle cose di Dio perché il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Allora, Isaia capitolo 1, versetto 3 dice E il bue conosce i suoi possessori, lassino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza e il mio popolo non ha discernimento. Allora, questo è un lamento. Ci sono due tipi di persone. Quelli che hanno conoscenza e discernimento e quelli di cui Dio si lamenta. Perché la conoscenza mi porta al discernimento. Il discernimento è quello che mi permette di fare le scelte giuste. Faccio le scelte giuste e ottengo i risultati giusti. Se tu ti trovi dove ti trovi, come dico spesso, soprattutto nelle conferenze, è a motivo delle scelte che hai fatto in passato. Se avresti fatto una scelta diversa, non ti troveresti dove ti troveresti oggi. Sì, ti potresti trovare peggio se avresti fatto un altro tipo di scelta. Ma perché guardare il peggio e non guardare il meglio? Perché se io faccio le scelte di Dio, io ottengo i risultati di Dio. Vuoi il futuro di Dio? Oggi devi fare le scelte di Dio. Ma per scegliere devi avere discernimento del bene e del male. Ma per avere discernimento devi avere conoscenza. La conoscenza mi permette di discernere. La scelta che io faccio con discernimento mi dà il futuro di Dio nella mia vita. Per quello non essere uno di quelli che Dio si lamenta, ma diviene uno di quelli che si dà da fare per la conoscenza e per conseguenza nel discernimento. A Gabaon, e questo è Salomone, il uomo più saggio della terra, dice a Gabaon il Signore appare di notte in sogno a Salomone. Dio gli disse, chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Ora, lui gli fa una domanda. Che cosa tu vuoi? Per chi conosce la Bibbia, nel versetto 4, a Gabaon Salomone offrì mille olocausti. Perché? Perché ha messo il suo tesoro nelle cose di Dio. Quando tu metti il tuo tesoro, allora la parola arriva. Dove il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. Per quello, dopo che lui offrì nel versetto 4 a Gabaone, ecco Dio gli parla il cuore. Per quello, anche questa televisione, questi canali, sono un buon luogo dove poter mettere il tuo cuore, cioè il tuo tesoro. Per quello, ricordati che viviamo di offerte e portiamo avanti. Io stesso do delle offerte perché credo in questo canale, credo nel lavoro che fanno, e ti incoraggio anche te a mettere il tuo tesoro affinché la parola che viene data da questo canale arrivi nel tuo cuore. Ma dopo che lui dà l'offerta, a Gabaon, cosa accade? Il Signore appare di notte in sogno a Salomone. Lui dice, chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Tu cosa risponderesti? Cosa risponderesti tu? Se Dio ti dice che cosa vuoi? Oltre al fatto che qualunque cosa chiediamo nel nome di Gesù Cristo, nel suo nome ci sarà data. Ovviamente le cose che sono la sua volontà, per quello il discernimento è fondamentale. Ma notate che cosa Dio dice nel versetto 10. Piacqua al Signore che Salomone avesse fatto una tale richiesta. Allora, nota che Dio gli fa una domanda, chiedimi qualcosa, che cosa vuoi che io ti conceda, e lui dà una risposta. Se io ti dico che cosa ha chiesto Salomone, molti dicono saggezza. No, non solo quello. Non solo saggezza o intelligenza. Andiamo a vedere che cosa fece, o che domanda ha fatto che piacque a Dio. Ora, è ovvio che se è una domanda che ha piaciuto a Dio, era una domanda di fede. Perché la via dice in Ebrei, capitolo 11, versetto 6, che or senza fede è impossibile piacerli. Nota? È impossibile piacerli. Vuol dire che se la domanda che gli ha fatto è una domanda che piacque al Signore, era una domanda di fede. Ok, che domanda le ha fatto? Non solo le piacque al Signore, ma il versetto 13 dice, oltre a questo, cioè, oltre a dare a lui quello che aveva chiesto, io ti do quello che tu non mi hai domandato, ricchezze e glorie, tante che non vi sarà durante tutta la tua vita nessun re che possa esserti paragonato. Wow! Allora, ascolta, è piaciuto così tanto la domanda che ha fatto Salomone, che dice, non solo ti do quello che mi hai chiesto, che mi è piaciuto, ma ti aggiungo le ricchezze. Ah, tu cosa avresti chiesto? Forse, tu che sei seduto avresti chiesto un sacco di soldi. Di la verità, tu no, quelli che guardano gli altri canali, noi non chiediamo quelle cose, è vero? Noi chiediamo come Salomone, ma che cosa ha chiesto Salomone? E tu insisti ancora con la saggezza. Non è proprio quello che ha chiesto. Che cosa ha chiesto? Andiamo a vedere. Guarda questo. Questo è quello che le ha chiesto. Dà dunque al tuo servo un cuore intelligente perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene e il male. Wow! Questo è quello che ha chiesto Salomone, che piace a Dio. Discernere il bene e il male. Avresti mai chiesto a Dio, Signore aiutami, dammi la saggezza affinché io possa discernere il bene e il male. Perché se io discerno il bene e il male, allora, noi dobbiamo tenere in conto che noi siamo nati separati da Dio. Adamo all'inizio della creazione, lui aveva la conoscenza del bene e il male direttamente connessa con il creatore. Ma stando separato da Dio, la conoscenza del bene e del male non dipendeva più da Dio, ma dai suoi sensi fisici. Per quello noi viviamo in un mondo dove discerniamo il bene e il male secondo quello che noi pensiamo che è bene o che è male. Ma Dio sa che cosa è il bene e il male. E' vero che la via dice a quelli che amano Dio tutto che lavora per bene. Sì, ma perché per mancanza di discernimento devo sbattere la testa contro il muro nella speranza che poi vada bene perché amo Dio? Allora, c'è qualcuno lì? Io so che sei lì. Ora, ma adesso io posso pregare per questo? Se tu preghi Dio, Dio dice ah, mi ha piaciuto questa idea. Questa preghiera è valida oggi? Domanda. Su, risponde. Questa preghiera è valida oggi? No. Perché? Evrei 5,14 dice ma il cibo solido è per gli adulti per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate o il senso esercitate nel discernere il bene e il male. Pregare a Dio che mi dia discernimento del bene e del male ti ho appena rovinato la preghiera che hai fatto prima di farti vedere questo passo della Bibbia perché lo hai fatto e hai pregato oh Dio dammi discernimento e adesso ti faccio vedere che quella preghiera ormai non è la volontà di Dio perché? perché la preghiera che devo fare è signore aiutami a diventare adulto. Quando ero bambino parlavo da bambino pensavo da bambino ragionavo da bambino ma quando sono cresciuto ho lasciato le cose da bambino perché il latte è per i bambini per i carnali ma il cibo adulto è per i solidi ma il cibo solido è per gli adulti quelli che hanno i sensi i sensi esercitati nel discernimento e nel bene e nel male vuol dire che le informazioni i sensi il gusto la vista l'olfatto il tatto questi cinque sensi sono esercitati per capire che quello che sto per decidere viene da Dio o non viene da Dio perché se io discerno dal punto di vista di Dio il bene avrò i suoi risultati mi seguite ora nota che non è più una preghiera quello che devo fare e nasce dalla maturità del credente perché la via dice quelli che cercano il Signore comprendono ogni cosa vuol dire che se io voglio capire Dio vuole che tu capisca Dio vuole che tu comprenda e che capisca la sua volontà abbiamo visto all'inizio che il titolo che è discernere il discernimento è la sua volontà per quello quando io conosco la volontà o il discernimento ora chi cerca Dio abbiamo visto capisce ogni cosa Dio non vuole che noi siamo delle vittime in questo mondo alla deriva nella speranza che quel lavoro che sto per prendere o quel matrimonio che sto per fare forse magari speriamo non lo so bu che ne sai vada bene no Dio ti dice andrà bene ma fai discernimento ascolta se Dio ti dice di sposarti con un inconverso perché ti impunti nella speranza e preghi se non è la volontà di Dio troverai qualcuno che ti dirà si cicina è la volontà di Dio vai avanti è un ignorante perché perché se Dio te lo dice è per evitarti un sacco di guai poi Dio ti condanna se lo fai no Dio non ti condanna ma non piangere dopo già da credenti a volte ci sono questi momenti di tensione figurati se sono credenti senza un uomo di Dio con il quale poter pregare nei momenti della difficoltà oh mio Dio perché siamo così ottusi guidati dai sentimenti usiamo la testa è inutile pregare con un qualcosa che è contro la volontà di Dio e fino adesso ti ero simpatico comunque noto che quelli che cercano il Signore comprendono ogni cosa ogni cosa cerca Dio tre volte ha pregato Paolo ed Dio l'ha risposto la mia grazia si fortifica ti basta la mia grazia la mia potenza si fortifica nella tua debolezza tre volte ha pregato e ha capito e tu che cosa ha capito non accettare le situazioni della vita come se fossero la volontà di Dio noi dobbiamo darci da fare allora per quello ho bisogno di cercare Dio ma noi non siamo nati discernendo la voce di Dio prima Samuele 3.7 dice ora Samuele non conosceva ancora il Signore e la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata vuol dire che se io voglio conoscere il Signore e avere intimità con Lui ho bisogno che la parola mi sia rivelata quando io cerco Dio ricevo la parola rivelata e conosco Dio la conoscenza di Dio mi aiuta a avere il discernimento nella mia vita la via dice in Giove 33.14 Dio parla una volta anche due ma l'uomo non ci vada il problema è che Dio non ti parla come tu vuoi che Lui ti parli tu devi adattare la tua mente per capire come Lui ti parla Lui ti parla in soni visioni e profezie principalmente per mezzo dello Spirito Santo ora si è vero Lui produce il volere come il fare è vero la parola di Dio è la spada tu hai bisogno non aprire la Bibbia e con il dito ecco con il dito magico oh parlami signore io l'ho fatto una volta ve l'ho raccontato in passato era nel Montesinaia ho aperto la Bibbia ho messo il dito non avrai moli in questo luogo dice e io ho creduto che era Dio Dio ovviamente conoscete sapete che è una moli bellissima due bimbe che sono le più belle insieme a mia moli di tutto il mondo mi dispiace per tutti gli altri ogni marito deve dire questo ma se avre mi sarei lasciato andare per quel tipo di specie di astrologia cristiana dove si apre la Bibbia e si punta al dito Dio non vuole che tu apri la vita e punti al dito lui vuole che tu studi metodicamente la parola per conoscere la volontà di Dio perché Dio parla una e due volte Dio non è muto Dio parla è l'uomo che è sordo o che non capisce non ci arriva se tu capisci come Dio parla tu conosci la volontà di Dio tu conosci Dio e sai discernere Proverbio 8-12 dice io ho la sapienza sto con la prudenza e trovo la conoscenza della riflessione allora uno dei modi di ascoltare Dio è per mezzo della riflessione riflettere Ecclesiastes 7-14 dice nel giorno della prosperità godi quando tutto va alla grande gioisci ma nel giorno dell'adversità rifletti rifletti la riflessione la conoscenza della riflessione perché la riflessione che è connessa con la meditazione produce la rivelazione e la rivelazione è quello che mi dà la conoscenza quando tu hai la conoscenza tu sai discernere il bene e il male per quello chi cerca Dio capisce ogni cosa sì ma di fronte all'adversità quando le cose non vanno lisce tu rifletti nella tua vita o abbassi la testa come un mulo e vai davanti continua ad andare davanti perché? perché nel giorno la prosperità godi e nel giorno l'adversità rifletti se le cose ne stanno andando bene è inutile che ti lamenti con Dio rifletti guarda cosa ha detto lo stesso Salomone Proverbi 26.2 come il passero vaga qua e là e la rondine vola così la maledizione senza motivo non raggiunge l'effetto domanda ci sarà forse qualche azione che hai fatto che ti sta portando a quello che stai vivendo perché così come tu puoi tracciare l'origine del bene che stai vivendo ci sono persone che hanno fatto del bene in passato e lo stanno raccogliendo nel presente tutto quello che noi facciamo torna indietro nel bene ma anche nel male che ne sai se quello che tu hai fatto non è il risultato di quello che ne hai fatto un altro e stai raccogliendo il frutto al posto di lamentarti con Dio rifletti perché sto vivendo quello che sto vivendo e se tu cerchi Dio Dio ti fa capire e se tu capisci puoi chiudere la porta e non ripetere le sbagli discernimento ora nota come c'è una maledizione è ovvio se io ho conoscenza posso essere libero della maledizione perché la via dice in Galati capitolo 3 versetto 13 Cristo ci ha riscattato della maledizione della legge essendo divenuto maledizione per noi perché si è scritto maledetto chiunque è appeso a legno lui è stato appeso su quella croce affinché noi fossimo liberi della maledizione della legge ma ci sono azioni che portano una conseguenza Dio non mi condana Dio non ti condana per le sbagli del passato ma ogni azione porta una conseguenza tu puoi decidere che cosa semini ma non puoi decidere quello che raccogli ricordati perché quello che raccogli è direttamente connesso con quello che hai seminato sì Dio non ti condana io lo dico sempre se io gli do un calcio sul sedere un poliziotto Dio mi condana no Dio non mi condana ma non penso che il poliziotto lo apprenderà molto bene è lo stesso discorso adesso dove ci sono le mode delle predicazioni adesso è molto in auge la predicazione della grazia e vabbè ci sono delle mode che passano nel mondo e ci sono delle mode nel cristianessimo oggi parlano tutti della grazia ma se tu non hai rivelazione della grazia è semplicemente una scusa per fare quello che tu vuoi se li ha arrabbiato se lo dico lo dico per il tuo bene non arrabbiarti con me allora non ce l'ho ho fatto anche un seminario sulla grazia perché non è che ce l'ho con la grazia credo nella grazia ma a volte tutta questa rivelazione della grazia o rivelazione più che rivelazione insegnamento della grazia produce una disgrazia perché perché ci vuole chi libra nella vita Dio non ti condanna sicuramente la grazia la via dice mi hanno chiesto l'altra volta farsi i tatuaggi va bene sentiti puoi fare quello che tu vuoi perché perché Dio non mi condanna ma se per quello che me lecito a me io faccio inciampare un fratello per amore a quel fratello io non lo faccio ecco la grazia sì tutto mi è permesso ma non tutto mi edifica mi stai seguendo Dio ti permette di fare il tatuaggio ma fate quello che vuoi mettiti una cresta mettiti due corne fai quello che tu vuoi nella tua vita ma sappi che se tu ami al fratello per non fare inciampare il mio fratello per il quale Cristo ha dato la vita io per amore a lui non lo faccio mi ami Pietro pace le mie pecore ah ma io l'ammi a rapporto con Dio senti se tu ami Dio lo dimostri con il fratello mi ami Pietro pace le mie pecore non ha detto dammi un'offerta non ha detto cantami una canzone lodami pace e l'amore lo dimostri con il fratello quando ero in ospedale sei venuto a trovarmi quando ero in carcere sei venuto a trovarmi quando mai quando l'hai fatto uno di questi piccoli l'hai fatto a me l'amore è sempre per il prossimo ti do a te con tutto l'amore di Dio mi diverto facendo queste puntate comunque gioisci un po' di più ascolta tua moglie fratello gioisci un po' di più vedrai come cambia l'atmosfera a casa tua ora Salmo 23.4 non è per tutti è per uno che l'hai sentato seduto con la faccia di limone e tua moglie già ti sta dando gomitate Salmo 23.4 sai che l'altro giorno l'altro giorno mi trovo con una sorella e dice guarda mio figlio che non è credente stavamo vedendo la tua puntata a un certo punto ti sei girato ora quando io faccio degli interventi voglio che voi sappiate lo spirito santo mi fa vedere quello che ancora non è caduto perché queste sono registrate queste puntate c'è James c'è il video lì dietro ma io so nello spirito che c'è una persona che ha bisogno di quella parola ora ovviamente nella parola rivelata c'è la parte dell'uomo l'altro giorno ero a predicare non mi ricordo dove e ho sentito questo spirito religioso c'era una persona con questo spirito religioso che mi giudicava e ho detto tu faccia di limone cambia quella faccia di limone perché mi stai giudicando fariseo Dio non mi condanna chi sei tu per farlo ora qual era la parola di Dio Dio non mi condanna chi sei tu per farlo faccia di limone l'ho aggiunto io perché è la mia personalità e Dio non mi condanna perché faccio queste cose ma quando do una parola perché so che c'è qualcuno lì e forse a te ti ha dato fastidio il mio modo di essere ci sono persone che gli piace tanto perché si identificano se tu avresti visto Gesù Cristo sulla terra molto probabilmente non ti seresti identificato con lui perché i prototipi che noi abbiamo non sono quelli che sono di Dio noi abbiamo un certo modo di vedere difficilmente vediamo un predicatore ridere ma veramente ridere nella presenza di Dio gioire e perché pensi che Gesù non gioiva comunque tornando a noi già mi sono perso andiamo noi la Bibbia dice no abbiamo detto scusate dice Cristo ci ha riscattato della legge quando le cose vanno male rifletti rifletti nota che a Gio capitolo 1 versetto 5 dice ora così parla il Signore dell'eserciti riflette bene sulla vostra riflettete bene sulla vostra condotta avete esaminato molto avete raccolto poco voi mangiate ma senza sassiarvi bevete ma senza soddisfarvi la vostra sete senza soddisfare la vostra sete vi vestite ma non c'è chi si riscaldi chi guadagna un salario un salario mette il suo salario in una borsa bucata così parla il Signore dell'eserciti riflettete sulla crisi che c'è nel mondo allora no riflette sulla tua condotta perché io non sono di questo mondo se io vivo come questo mondo ho i risultati di questo mondo ma se io ho il discernimento e faccio le scelte di Dio io ottengo i risultati di Dio nota che sta parlando di persone che si affanano le cose del mondo ma non riflettono e poi continua sali sul monte a edificare a prendere legna la vi dice finché l'erede e i minorene non differisci nulla dal servo benché sia padrone di tutto tu sei padrone di tutto come fai a vivere in crisi quando sei padrone di tutto perché sei bambino ti ricordi ebrei 4 ebrei 5 e 14 gli adulti hanno le fecoltà esercitate nel discernere il bene del male ecco ora quando io non sono adulto sono minorene e quando sono minorene anche se sono padrone di tutto dal momento che non so discernere vivo come quelli senza Dio nella carestia e nella crisi la Bibbia dice proverbi 19.3 la stoltezza del uomo ne perverte la via perché? perché l'estolto è quello che non mette in pratica la parola di Dio ma il suo cuore si irrita contro il Signore quante volte si è arrabbiato con Dio a motivo della tua stoltezza perché c'è una via che è la via di Dio sì ma tu stai seguendo la via di Dio perché molti fanno la propria via infatti la via dice scelgono la propria via che nasce dalla volontà e poi si arrabbiano con Dio perché le cose non sono andate come Dio voleva Gesù Cristo ha detto sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo Dio vuole che tu discerne e conosca la sua volontà quando io conosco la volontà di Dio so discernere le vie di Dio la Bibbia dice non conformatevi a questo mondo ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio buona gradita perfetta i tre livelli quella che porta 30, 60 o 100 allora io sì ma se io non rinuovo la mia mente e mi do da fare io la devo conoscere sulla terra non si fa la volontà di Dio guarda questo perciò anche noi dal giorno che abbiamo saputo questo e adesso vi spiego la frase che ho detto non ci siamo di preghiare per voi e di domandare che siete ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale nota che da un lato rinuovo la mente e dall'altro lato prego perché conoscendo la volontà di Dio posso discernere le cose giuste la Bibbia dice che spesso si dice questa frase l'altro giorno ho visto una sorella ci invitiamo domenica al culto se Dio vuole se Dio vuole nel dieci comandamenti di guardare il giorno del Signore se Dio vuole cosa vuol dire se Dio vuole oggi c'è quella c'è quella moda nello slang cristiano se Dio vuole guarda questo ora io vi dico che oggi ora io vi dico voi che dite oggi e domani andremo in tale città e staremo un anno trafficeremo e guadagneremo mentre non sapete che succederà domani che cosa è infatti la vostra vita siete un vapore che appare in un istante e poi svanisce dovreste invece dire se Dio vuole saremo in vita e faremo questo e quest'altro invece voi vi vantate con la vostra arroganza un tale vanto e cattivo cioè chi deve dire se Dio vuole l'arrogante chi è l'arrogante quello che sceglie le sue vie quello che mette prima le cose del mondo guadagneremo faremo questo voi dovete dire no ma noi non dobbiamo dire noi dobbiamo rinnovare la mente e pregare a fine di capire la volontà di Dio perché la volontà di Dio non si fa sulla terra dice questa è la fiducia che abbiamo in lui che se domandiamo qualunque cosa secondo la volontà di Dio e lì ci saudisce e certo ma tu la conosci la volontà di Dio perché se non la conosci come fa Dio a saudirti punto di domanda poi vediamo la conoscenza al premezzo delle sue vie non perderti la prossima puntata ma voglio farti comprenderti questo ho fatto una raffica di passi biblici per farti meditare la volontà di Dio non si fa sulla terra perché se facesse la volontà di Dio sulla terra non ci sarebbe né morte né fame né malattie né incidenti è chiaro? noi abbiamo il compito di fare la volontà di Dio espandere il regno di Dio ma per farlo abbiamo bisogno di conoscerla domanda tu conosci la volontà di Dio? conosci? noi ci vediamo la prossima puntata se Dio vuole certo che vuole ci vediamo la prossima ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti